L'attività di Penetration Test è la tipica fase successiva a un'attività di Vulnerability Assessment e ha la funzione di entrare nel sistema informatico sfruttandone le vulnerabilità. Con il Penetration Test si ottiene una visione chiara e inconfruttabile di quali vulnerabilità siano realmente sfruttabili da un attaccante. Si tratta quindi di un test targettizzato e viene effettuato da un Penetration Test che sfruttando tecniche di exploit prende possesso del sistema o ne compromette il funzionamento. Queste procedure sono altamente pericolose e possono diventare distruttive e per questo che spesso si preferisce effettuarle in un ambiente controllato e isolato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.